Piccolo annuncio, chi ha visto partire il video di 20 minuti fa dedicato alla Somalia si è reso conto che è lo stesso video di settimana scorsa perché per qualche motivo a me sconosciuto sono riuscito a caricare lo stesso video due volte e una volta il sistema se ne accorgeva YouTube che caricavi lo suo video, stavolta non mi ha detto niente, io non me ne sono accorto e il brutto è che questi video li ho girati qualche settimana fa, due settimane fa e quindi non sono riuscito a recuperare il video da poterlo ricaricare ma curiosamente, probabilmente per dimenticanza mia, non avevo cancellato dalla memory card il video premontato, c'è ancora da montare quindi dato che fortunatamente era un video che avevo girato con pochi tagli, lo rimonto e lo carico per oggi pomeriggio perdonatemi, spero non capiti più perché è un altro lavoro in più, arriverà comunque